Quando nel 1888 Francesco Paolo Michetti realizzò con olio su tela il ritratto di Costantino Barbella, l'artista abruzzese, nato a Chieti nel 1852, era già diventato uno scultore apprezzato e affermato. Nel Museo Civico, a lui dedicato e ospitato nel seicentesco Palazzo Martinetti nel centro storico di Chieti, oggi sono conservate moltissime delle sue sculture, ma anche il suo stesso ritratto a firma dell'amico Francesco Paolo Michetti, attualmente al centro di un attento e minuzioso lavoro di restauro portato avanti dall'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, come spiega Grazia De Cesare, docente di restauro. È l'unico pezzo di questa collezione museale con le opere di Michetti che non si presentava in buono stato di conservazione. È un'opera donata negli anni 90, grazie giustamente al buon cuore di un mecenate che ne ha fatto dono alla collezione pubblica. Importante per noi perché è l'occasione per studiare la tecnica da vicino, materiali originali, è quello che gli è stato sovrammesso e cerchiamo di riportarla a uno stato e una presentazione estetica più consona a quella che era l'idea di Michetti della superficie pittorica. Per noi è interessante perché poi tra l'altro descrive Barbella nel suo splendore, nelle opere che già gli avevano dato la fortuna perché aveva vinto un concorso a Napoli, quindi era ormai arrivato agli onori del mondo artistico. e quindi Michetti che lo aveva protetto fin dall'inizio mandandolo a studiare a Napoli con una borsa di studio della provincia, ecco perché la collezione di nuove provinciale, diciamo, trova successo e quindi lo celebra. È l'inizio di tutta questa vita del cenacolo e questa generosità che ha sempre Michetti di ritrarre i suoi migliori amici, ognuno artista in un campo diverso. I lavori di restauro saranno aperti al pubblico dei visitatori del Museo Civico Barbella nei giorni 7, 10 e 11 febbraio con ingresso gratuito su prenotazione causa Covid dalle 9.30 alle 16.30. Un motivo in più per rilanciare l'esposizione del museo, come spiegato in conferenza stampa dal sindaco di Chieti Diego Ferrara e da Paolo De Cesare, vice sindaco e assessore alla cultura. Sin dal nostro insediamento ci siamo dedicati al rilancio di questo museo civico molto prestigioso per la nostra città e abbiamo messo in campo una sinergia istituzionale di collaborazione con una convenzione da me firmata, con l'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila che in questi giorni ha tramutato il nostro museo in un vero e proprio laboratorio. Siamo stati meritevoli di un finanziamento da parte del Ministero della Cultura per questo museo e non solo perché in questi giorni una delle opere più significative della collezione Paparella sarà esposta all'Expo di Dubai. Dunque un'opportunità da accogliere sia per gli studenti che per i visitatori, come ha spiegato Maria D'Alesio, direttrice dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. Questa è un'iniziativa che l'Accademia reputa molto importante perché la restauratrice che sta curando questo restauro è una studentessa del nostro corso di restauro. Francesca Rossi, che effetto fa avere tra le mani un capolavoro come questo? Un onore fondamentalmente stare a contatto con un personaggio come Michetti, studiarne appunto la tecnica, guardarlo da vicino e poterne apprezzare anche le pennellate e appunto l'originalità di questo artista. Grazie. 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 Grazie.